Siamo molto soddisfatti di questo accordo che speriamo sia lungo e proficuo, questo accordo con Assolimpo. Da oggi anche le nostre imprese avranno altri luoghi di incontro per parlare di economia, di lavoro, ma soprattutto di formazione e soprattutto di alta formazione professionale dove Assolimpo rappresenta un'associazione leader nel nostro paese. Gli obiettivi sono a breve, a media e lunga scadenza. Siamo presenti entrambe associazioni nel territorio nazionale, siamo vicini ai nostri associati e questo sicuramente rappresenterà un valore aggiunto. Sicuramente, sono d'accordo con quanto ha detto il Presidente, ma voglio aggiungere che questo è un accordo che porterà sicuramente tanta voglia per i giovani di far bene, perché vogliamo che capiscono che fare impresa significa fare formazione, significa essere pronti a poter affrontare tutte quelle che sono le difficoltà che oggi ci sono per poter far nascere quelle idee semplici che poi diventano difficili. Su questo noi, io e il Presidente, punteremo moltissimo. Siamo presenti su tutto il territorio nazionale, loro sono già quasi 1.400, noi siamo quasi 600 e rappresenteremo sia le associazioni che riguardano sicuramente tutte le imprese ma noi specificatamente per quanto riguarda la formazione. Diciamo che abbiamo una cosa in comune, amiamo questa terra, questa terra che è la Sicilia, il Sud, ma anche il Nord, perché insieme sicuramente saremo più forti.